Coracanea è un'associazione di promozione sociale e culturale che nasce sette anni fa con l'obiettivo di portare la storia tra le persone. Nasce in una realtà non urbana, nel senso rurale, da un gruppo di giovani, prende questo suo nome da una canzone di De Andrè, perché questo gruppo di persone voleva evocare il viaggio. Si tratta in realtà di un percorso a ritroso, la riscoperta delle proprie radici, anche culturali e tradizionali. Questo progetto si è declinato nel corso di questi sette anni attraverso oltre 40 incontri dedicati alla storia e alle storie delle persone, attraverso la raccolta di testimonianze in tutto il territorio, non solo nella comunità in cui questo esperimento si è radicato e ha preso forma. Quindi le proiezioni di questa azione si sono poi diramate verso la città di Cagliari e di lì, attraverso l'interazione tra gli appartenenti all'associazione e le memorie orali dei cagliaritani che nel 1943 sfollarono quando la città venne bombardata dagli angloamericani, attraverso la raccolta delle loro testimonianze è nato un documentario che si chiama Cagliari 1943, memoria di uno sfollamento, che mette insieme in una narrazione di circa 50 minuti e dopo 40 ore di interviste, ricerche negli archivi locali, nazionali e internazionali. È stata un'esperienza scientifica ma soprattutto umana, di storia pubblica che ci ha permesso di entrare a casa di queste persone, di scoprire i loro racconti, di grande interesse anche per uno storico come me, che sono uno storico dell'età moderna, che si occupa però di insediamenti, di colonizzazioni e di grandi e piccoli spostamenti di popolazione. Devo dire che anche il mio sguardo è cresciuto molto grazie alla partecipazione di tutte queste persone. Ultimamente, nell'ultimo anno, abbiamo invece sviluppato un progetto che si chiama Fotografica. Tutti questi progetti sono consultabili attraverso il nostro sito internet che è www.coracane.eu. Il progetto Fotografica è un progetto di raccolta delle fotografie conservate negli archivi delle famiglie ed è un progetto costruito dalle persone, non solo perché ci portano le foto ma perché contribuiscono a raccontare la storia che c'è dietro con le foto e a inserirle in questo portale che è ora accessibile a tutti.